buongiorno da Leandro Maggi buongiorno ancora una volta davanti alla barriera anti sale alle foci dell'Adige alcune foto sui social di oggi oggi è il 9 agosto segnalavano che c'era un accumulo di detriti in questo punto qua appunto dove c'è la barriera anti cuneo salino però volevamo smentire tutto questo volevamo far vedere che la situazione non solo è sotto controllo ma non presenta alcuna criticità questa è appunto la barriera anti cuneo salino e c'è un piccolo accumulo qua sulla mia destra sono le più o meno le 16 del 9 agosto e come ripetiamo la situazione non presenta alcuna criticità nonostante alcune foto che abbiamo visto sui social proprio oggi continuata la nostra cronaca vi facciamo vedere appunto il flusso dell'Adige non ci sono detriti ben visibili abbiamo già fatto vedere ieri che non c'erano criticità nelle spiagge e i primi accumuli dell'andata di pieno del 7 8 agosto sono stati prontamente recuperati dagli operatori e comunque oggi 9 agosto virgola nonostante qualche notizia sui social è perfettamente sotto controllo e non ci sono appunto criticità da le andro maggio è tutto alla foci dell'Adige rosolina mare buongiorno grazie a tutti